Sì, si rompeva la roba No, 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 aspetta, aspetta Come facciamo? Prende, 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 prende Prende, prende Sei brabissimo, metriami Eh? Sei brabissimo Eh grazie, perché è duro Sì Duro come lui Mamma mia Duro come lui, vero? Sì Ok Grazie, mi domino, grazie Grazie mille, sei veramente tranquillo Ah, hai video? Eh? Sì Ottimo, ottimo Dove sta? Ancora lontano? Dritto così Ok, ok Aspetta Ce lo faccio Grande, grande Grande, grande, va bene Oh, è più grande? Eh? Devo andare sopra con il sasso, guarda Guarda, guarda La, guarda La, guarda La, guarda La, guarda È proprio grande È proprio grande Ito, guys Molto, molto Ancora lontano Si, si, si Si penso io dai Aspetta Sino si escapa Ecco Grande, mostro, mostro Oh mamma mia Facci coquilli Oh mamma mia Que grande Alla, canto guys Oh mamma mia 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 E come faccio? No, 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 aspetta Come facciamo? Prendi, prendi, prendi E' verino Ok Ok Ma come mi vanno venuto Vedo Questa è la città Qui Nel E' un po' di schiaretino, eh! E' un po' di schiaretino, eh! Ah, non si è stupendo il bar, non si è stupendo! come si è venuto? no 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 ho fatto video bellissimo cazzo retino 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 si rompi si rompi prendi prendi retino che fai? che fai? che fai? ok adesso devo fare video si guarda 4 kg? no meno di 3 un po' meno più di 3 kg eh? ma meno di 3 come meno di 3? più di 3 cazzo si è slamata oh mamma mia si è slamata si meno male vedo che roba si per un pelo vuoi che prendo in mano? sì sì il Grazie a tutti